Gli altri hanno la compagnola Dovrebbe essere in arrivo al quartier generale, confermatemi Allora Bloccate eventuali uscite con un veicolo, spostando in veicolo in modo tale che la macchina non possa uscire dalla discesa, passo Allora Gli altri hanno le ceglie e il furgone, dovrebbero andare a prendere il furgone Dovrebbe essere un portare di campione Vado io consente Sì 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 Sì